Oggi impariamo ad usare bene i due aggettivi indefiniti qualche e alcuni. Qualche e alcuni sono due aggettivi indefiniti, quindi sono seguiti da sostantivi e ne indicano una quantità indefinita. Si equivalgono nel significato, ma sono un po' diversi nella forma grammaticale, perché qualche è singolare, mentre alcuni è plurale. Vediamo degli esempi. C'è qualche errore di battitura nel testo che ho letto. Ci sono alcuni errori di battitura nel testo che ho letto. Quindi il contenuto è identico, ma cambia la forma. Qualche errore, alcuni errori. Mi raccomando, qualche è singolare, alcuni è plurale.